Mancano 48 ore e Nello Musumeci renderà noto il suo futuro. Il presidente della regione incontrerà i giornalisti giovedì alle 10.30 nella sala Alessi di Palazzo d'Orlean. Il suo staff ha fatto sapere che in quella circostanza renderà noto le proprie decisioni in relazione alle prossime elezioni regionali. Ieri il governatore a Catania aveva affermato che per gli interventi non finiti del suo governo ci sarà il proprio successore perché io, ha detto testualmente, toglierò il disturbo. Poi Musumeci non ha voluto commentare con i giornalisti questa sua dichiarazione limitandosi da aggiungere quello che ho detto è stato sentito, ognuno gli dia l'interpretazione che vuole, io non ho nulla da dire adesso, incontrerò la stampa nei prossimi giorni. Parole comunque quelle di Nello Musumeci che paleserebbero una certa stanchezza da parte del governatore in ordine agli attacchi da parte della sua maggioranza di centrodestra e in particolare quelli del presidente dell'Assemblea regionale siciliana e leader di Forza Etale in Sicilia Gianfranco Miciche. Che dunque Musumeci sia pronto a fare un passo indietro e a rinunciare alla ricandidatura alla presidenza della regione è un'ipotesi della quale avrebbe già parlato con i suoi fedelissimi. Un cambio di decisione che, se confermato ufficialmente, di fatto riaprirebbe la partita per la scelta del nuovo candidato del centrodestra e sulla quale si peseranno i rapporti di forza anche tra i leader nazionali della coalizione con Giorgia Meloni, che ho sostenuto con Fratelli d'Italia la ricandidatura di Musumeci e che contesterà a Lega e Forza Etale l'aver costretto all'eventuale passo indietro il governatore uscente. Il test delle amministrative appena concuse ha consegnato al centrodestra e al centrosinistra in Sicilia un quadro politico complesso a scuotere le due coalizioni, le mine vaganti, Cateno De Luca, suo l'exploat Messina che ha frantumato due pole in corsa da quattro mesi per la regione e Fabrizio Ferrandelli, terzo a Palermo, definito da Miciche il nuovo soggetto politico con cui discutere. Su entrambi i fronti, confronti e trattative non si sono mai fermati, gli scenari mutano di ora in ora. Nel centrodestra Miciche ribadisce in un'intervista al Corriere della Sera il no alla ricandidatura di Musumeci auspicando un nome nuovo, magari quello di una donna che possa compattare la coalizione. Appare difficile invece l'alleanza con De Luca, all'indomani del voto in molti mi hanno cercato, ha detto scateno come ama definirsi, il centrodestra cerca un'alternativa a Musumeci la cui inadeguatezza non può più essere nascosta, ho detto no a chi propone accordi. Ma nelle scorse ore Cateno De Luca ha ipotizzato che giovedì mattina Musumeci annuncerà le sue dimissioni da presidente della regione con l'intento tuttavia di ricandidarsi. Un'ipotesi che spaccherebbe ulteriormente al centrodestra, bisognerà aspettare. Ma i nervi sono tesi anche nel centrosinistra. Il via libera alle primarie si voterà online nel Gazebo il 23 luglio, non sta acquietando il campo progressista, anzi PD e Movimento 5 Stelle stanno gestendo problemi non indifferenti. Idem sul nome da lanciare per le consultazioni. In pole position c'è l'eurodeputata a Catarina Chinnici, ma non mancano i mal di pancia. E il Movimento 5 Stelle, che nome a parte Luigi Sanseri, Lucio Di Paola, Giancarlo Cancelleri, su cui pesa però l'interrogativo del terzo mandato, si deve misurare anche con l'ipotesi scissione. In più l'apertura d'azione più Europa, trascinate a Palermo dall'ottimo risultato elettorale di Fabrizio Ferrandelli, non pare abbia riscaldato i cuori del centro. Tutt'altro, le primarie rischiano di essere un esercizio di stile utile soltanto per la supremazia tra le correnti. Se viceversa il centrosinistra vuol fare un discorso serio e concreto, siamo disponibili a sederci ad aprire una discussione. Questa la laconica reazione del segretario di azione Carlo Calenda, ancora più netto, benedetto della vedova di più Europa, primaria in Sicilia, no grazie, ma intanto si è già candidato per la primaria. Claudio Fava, presidente uscente della commissione antimafia, fondatore del Movimento 100 Passi, da lui rappresentato all'interno dell'Assemblea regionale siciliana.